Ciao a tutti, ciao, grazie per aver scelto questo video ASMR e benvenuti o bentornati sul mio canale Fairy ASMR. Per chi non mi conoscesse mi presento, io sono Federica e quello che state per guardare oggi è un video rilassante in cui farò colazione insieme a voi mangiando qualche dolcetto pasquale. In realtà non ho ancora deciso che cosa mangiare ma il mio menù è composto da uova di cioccolato immancabili e una mini colomba che mi attrae più che altro per le aribo. Vedete? Ci sono dentro le caramelline. Comunque penso che questi cibi possono aiutarmi a realizzare dei suoni rilassanti come questo. Io vi consiglio per l'ascolto di questo video di indossare come al solito le cuffie oppure gli auricolari e di distendervi, di mettervi comodi. Lasciate un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per non perdere i prossimi video. Ma adesso iniziamo anche perché il mio stomaco inizia a brontolare. Ok, penso che mangerò un uovo perché la sorpresa all'interno mi attrae più altissimo e fa anche un bel suono. Però prima vorrei capire un attimo com'è fatta questa colomba. L'apriamo insieme e facciamo una specie di unboxing. Colomba più bilanza con sorpresa. E dentro ci sono due sacchetti. E dentro ci sono due sacchetti. E dentro ci sono due caramelle di caramelle a ribo. Guardate. Sono proprio gli orsetti gommosi. Mi piangono bellissimo queste. Ma passiamo al nostro cuento. Questo. Pronti per un po' di suoni rilassanti. per un po' di suoni rilassanti. Io non so se voi festeggiate o meno la Pasqua. Io solitamente no. Non è una delle mie feste preferite dell'anno. Visto che siamo in quarantena. È giusto concedersi qualche sfizio in più. Avvertenza. Contiene giocattolo. Guardate. La forma perfetta dell'uovo. Perfetto quasi. anche sul cioccolato. che profumo. Ho proprio fame. Apriamolo. ecco qui. Questa è la parte con la sorpresa. Questa è la parte senza la sorpresa. Vuota. Vedete? Questo è tutto il cioccolato bianco. Questo è tutto il cioccolato al latte. Assaggiamo. mi ricorda troppo quando ero bambino. mi ricorda troppo quando ero bambina. ma non l'ho trovato. ma non l'ho trovato. che ne pensate se questo lo mangio tutto insieme? passiamo all'altra metà. eccolo. vorrei sapere da voi, magari scrivetemelo nei commenti, se non vi siate rilassati troppo da questo punto del video. come state trascorrendo questa pasqua di quarantena? se siete da soli, con che cosa festeggerete? e ovvero sono soprattutto vorrei sapere se vi piacciono le uova di Pasqua oppure no e quali sono le vostre preferite vedete quando io ero più piccola questa apertura facilitata che non so se riuscite a notare forse sì, forse no non si deve oh wow ecco qui la sorpresa riuscirai a capire che cos'è? io no adesso la vediamo insieme guardate è questa scimmietta ok allora l'alberello si monta credo così giusto da questo verso perché ok poi bisogna farlo abbracciare dalla scimmietta quindi così e spingere e spingere ok è fatto sono della plastichina una di questi piccoli giocattoli è molto soddisfacente secondo me bene adesso mangerò una caramella aribo e poi se anche voi siete curiosi di vedere la sorpresa dell'uovo più grande cioè l'agosto attendete fino alla fine del video perché lo aprirò insieme a voi aprirò queste ecco l'orsetto giallo e l'orsetto arancione come le luci di questo video oggi l'orsetto giallo e l'agosto limone non c'è nessun dubbio è molto giui non so se si dica così forse ho appena inventato un termine che non esiste adesso vediamo con l'arancione secondo me sa di arancione sa di arancione ma l'io di arancione oda andiamo andiamo adesso mettiamo da parte quello che non ci serve allora un po' di nautibull vi leggo le scritte qui dietro per portare burro di cacao camisola di via e le nostre cacao sono tutte le cacao scrivate grazie buro caneta canicola sono tutte le screvate la tenda per comprare la tenda tanta grattina apriamolo vediamo un po' non voglio distruggere la carta ok apriamolo sto fallando miseramente nel tentativo di non romperlo oh oh vabbè mangiamolo un po' di cioccolato ecco credo di essere stata abbastanza brava a riordinare tutto adesso apriremo insieme la sorpresa di agosto che buono che buono c'è un odore tipo di plastica e anche questo vedete è arancione e giallo dei colori dei colori che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è? che cos'è? ho già capito allora allora trolls world tour avete visto il film? secondo me eccoli qua con i capelli uniti l'uno all'altro e loro vanno così, l'alberello è solo da boccia, non so se riusciano a vederli togliamo un po' di cose, eccoli, bene, direi che possa bastare almeno per oggi per questa mia colazione che forse vedrete questa sera, non lo so, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi fatto rilassare ricordate se vi va di lasciare un mi piace, se questo video vi è piaciuto per farvelo sapere e di lasciare un segno del vostro passaggio con un commentino qui sotto e niente, se vi va, noi ci vediamo come al solito nel prossimo video, bacini fadosi, cioccoladosi adesso tocca a te, hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah, e se vuoi continuare a rilassarti, clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte grazie a tutti